Salve a tutti, io sono Flora Contrafatto e sono emozionatissima questa sera di essere qui al Crocitti International, un premio che ho tanto stimato, tanto seguito e riceverlo come emergente per me è un onore. Sono appena tornata dall'estero, quindi tornare in Padria per un premio con questa importanza, con la direzione di Francesco Fiumarella è un onore. Grazie mille. Progetti? Progetti sì, tanti, tornerò a girare a gennaio e tornerò anche all'estero poi, sia a Madrid che a Parigi, quindi tante cose in programma, diciamo che sarà un inverno pieno.